Il governo Meloni in questo momento è in fortissimo imbarazzo perché prima cosa avrebbe dovuto chiedere già scusa ma da un po' avrebbe dovuto chiedere scusa per non aver potuto realizzare il blocco navale, poverina, che invece si doveva realizzare e per non aver fermato gli sbarchi, per aver riconosciuto ora, troppo tardi, che la situazione è complessa nel Mediterraneo e dovrebbe chiedere scusa a quest'isola perché appunto lei è il ministro Piantedosi, non solo per quello che sta succedendo ora ma per quello che le destre hanno sempre perpetrato nei confronti di queste isole. Lampedusa ha dato in questi giorni grande prova della sua umanità e anzi le file che vediamo davanti alla parrocchia, il fatto che le persone vengano sfamate perché nessuno ha organizzato la distribuzione razionale in sicurezza di pasti, acqua eccetera dimostra proprio questo, quanto i Lampedusani siano accoglienti.